Il governo che fa bene all'Abruzzo, il Presidente Regione Marco Marsiglio, ad un mese dalle elezioni, chiedono a riconferma agli abruzzesi, snocciolando quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti in cinque anni di governo difficili, segnati dalla pandemia, ma che hanno consentito all'Abruzzo, come è stato sottolineato da molti questa mattina, in un teatro Circus a Pescara, gremito, di riposizionarsi dopo anni di depressione tra le regioni più dinamiche. E' forte anche di un rapporto sempre più stretto con il governo nazionale. Una rete ospedaliere sbloccata dopo 25 anni, 400 milioni di euro pronti per la costruzione di quattro nuovi ospedali e poi oltre un miliardo per il piano di sviluppo e coesione. Poi il potenziamento della mobilità e l'attenzione per le imprese del territorio, oltre ai grandi eventi di spettacolo e sportivi. E poi la prima vera frecciata al suo contendente, Luciano D'Amico, dice di poter garantire mobilità urbana ed extraurbana gratuita a tutti gli abruzzesi, ma dimentica che da presidente della tua zo tutte le tariffe. E poi tra bolle di sapone, il commosso ringraziamento al padre presente in sala, l'endorsement di prestigio della neuroscienziata di fama internazionale abruzzese, di nascita Antonella Santuccione, consulente preziosa durante la pandemia, che Di Marsiglio ha sempre particolarmente apprezzato pacatezza e concretezza. Ma andiamo a ascoltare il presidente da noi intervistato. Dobbiamo andare avanti, non dobbiamo fermarci. Quello lo abbiamo chiamato così, il governo che fa bene all'Abruzzo. Abbiamo ripreso un Abruzzo marginale, depresso, fuori dai tavoli che contano. Restituiamo un Abruzzo che ha riconquistato credibilità, autorevolezza, ascolto a Roma e in Europa. Dobbiamo però andare avanti perché c'è ancora tanto lavoro da fare. Quasi 400 milioni di euro di edilizia ospedaliera fermi da 25 anni a Roma, che si trasformano in nuovi ospedali, in una sanità finalmente all'altezza dei bisogni dei cittadini. La rete ospedaliera è approvata, la legge urbanistica è approvata dopo 40 anni, l'accordo di coesione è firmato con 1 miliardo e 300 milioni di investimenti pronti, i fondi europei che abbiamo speso tutto l'intero ciclo precedente, quando eravamo maglia nera 5 anni fa, e il nuovo ciclo di programmazione è già partito, con oltre un miliardo di euro di investimenti pronti. È stata una legislatura complicata perché abbiamo subito covid, emergenza, guerra, bollette, quindi non siamo riusciti ad andare avanti sui programmi in ordinaria amministrazione e questo naturalmente ci ha fatto tirare il freno, però sperando che il peggio sia ormai alle nostre spalle, credo che il lavoro fatto abbia messo basi solide per raccogliere i frutti nei prossimi anni. Da dove riprendere in caso di rielezione? La cosa immediata da fare subito? Intanto mettere a terra tutti questi finanziamenti, abbiamo centinaia di opere pubbliche, di contributi, di incentivi alle imprese che devono essere finalizzati e sui quali dobbiamo rapidamente mettere in campo tutte le risorse perché si trasformino in cantieri, in opere finite e collaudate.